Gli sport di squadra ben rappresentano lo spirito della cooperazione. La collaborazione di tutti e le attività svolte in equip diventano fondamenta imprescindibili sulle quali poggiare la costruzione di qualsiasi traguardo. Si tratta di concetti molto cari alla Banca 2021 che con questo spirito ha vissuto una splendida e partecipata giornata all'insegna dello sport e della condivisione presso il Fit Village di Acciaroli. Il primo torneo aziendale di calcio della Banca 2021 ha visto la presenza di tantissimi dipendenti dell'Istituto di Credito con sede a Vallo della Lucania, insieme a molti membri del CDA. In prima fila il presidente Pasquale Lucibello, insieme tra gli altri al vicepresidente Celestino Sansone e ai consiglieri Lefante e Priore, a dimostrazione che per la governance della Banca 2021 l'entusiasmo e l'impegno di tutti costituiscono il modo migliore per consolidare il lavoro di squadra e raggiungere successi sempre più importanti. Tra i più entusiasti in campo ha anche il direttore generale Cosimo Puglia, ben consapevole che gli schemi condivisi e le regole applicate all'interno della squadra riescono ad esaltare le capacità del singolo ponendole al servizio del collettivo. Ovviamente in una giornata caratterizzata dalla passione sportiva non sono mancati i sorrisi, il tifo e gli inevitabili sfottò per le sfide che si sono alternate sul campo di calcetto e che hanno visto protagonisti anche in veste di arbitri gli uomini e le donne della Banca 2021. Tutti motivi per i quali il primo torneo aziendale di calcio si è rivelato un'iniziativa di successo gradita e apprezzata da tutti.